La violenza del clan Spada è inaccettabile. Esprimiamo la massima solidarietà al giornalista e all'operatore brutalmente aggrediti ad Ostia. In questo caso le istituzioni devono essere largine alla criminalità e agli estremismi. Non a caso nei giorni scorsi ho segnalato l'inquietante presenza del clan Spada all'esterno dei seggi durante le operazioni elettorali ad Ostia.